Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo fantasy dove la protagonista viene rapita e venduta a un gruppo di vampiri, anziché ai lupi mannari come previsto. Per salvare il suo amico dalla morte, si ritrova a partecipare a un pericoloso gioco. La storia presenta un mix di azione, suspense e un tocco di romanticismo. La trama del libro Takenbaifate presa dal destino della scrittrice Shannon Meyer edito da leggere editore, è la seguente. Prelevata da Collector S. Pence, venduta all'asta a un contingente di vampiri e spedita oltre oceano verso territori degli alfa non era esattamente il modo in cui avevo pianificato di trascorrere la mia settimana. Ok, non è proprio così. In realtà, avevo previsto solo la prima parte. Ma avrei dovuto essere venduta ai lupi mannari per salvare il mio amico da un destino peggiore della morte. Invece, sono finita nelle grinfie dei succhiasangue e finora non sta andando alla grande. Mi hanno strizzata in un corsetto alla Bridgerton, per partecipare ai giochi del raccolto. Pensate a The Bachelore ambientato nel 1800, ma gli uomini sono tutti vampiri, e aggiungete un elemento alla Squid Game decisamente terrificante. Nulla di preoccupante, insomma. Il mio obiettivo non è solo sopravvivere, ma sfuggire all'inevitabile, trovare la strada per il territorio dei licantropi e riportare indietro Jordan. Da qui, il via alle lotte politiche. Armata solo di una forcina superaffilata, del mio discutibile fascino e di una quantità irrazionale di ottimismo. I piani per far uscire vivi si amiche e il mio migliore amico sono in pieno fermento. Questo finché il generale dell'esercito dei vampiri e il suo sguardo ardente non mi infiammano a tal punto da domandarmi se, dopo tutto, sfuggire al suo tocco è davvero ciò che voglio. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.